L'obiettivo sportivo per me rimane sempre la moto, ma poi c'è l'obiettivo di vita che è la scuola che per me non abbandonerò mai perché rappresenta tutti i miei sforzi. La moto è la scuola, ma poi c'è l'obiettivo sportivo per me. Che cosa rappresenta? Che cos'è la moto? Rappresenta uno sbocco futuro per la mia passione e anche un'opportunità per cacciare tutta la mia personalità, che però mi porta molto felicità. La moto è la scuola, ma poi c'è l'obiettivo sportivo per me. La mia carriera è iniziata ad otto anni con la minimoto e abbiamo partecipato a dei camionieri italiani. Poi con il passare del tempo, arrivati sui 13 anni, ho fatto il camionato premoto 3, il camionato italiano. E ora il mio obiettivo è arrivare in moto 3, che poi porterò al mondiale. Padovi notificare più raggi. Guardi come si è strumento, non è che non è successo. Paolo Conte Musica Musica